buongiorno a tutti amici di cacca di cionchi e benvenuti a questa comparison tra lo zuc z1 e l'iphone 6 plus plus super mega fighissimo andiamo subito a vedere i due cellulari in nel dettaglio abbiamo lo zuc z1 contro un iphone 6 plus come vedete l'iphone 6 plus è stato un po come dire maltrattato negli ultimi mesi non è mai avuto diversi ultimi mentre lo zuc z1 è arrivato è stato consegnato ieri ed è praticamente in tonso come vedete le dimensioni sono molto diverse 155 per 88 per 1743 per una rotondità una circonferenza treppi greco mezzi che per l'iphone 6 plus che comunque non è tanto comodo da maneggiare mentre con il lo zuc z1 sta comodamente nel palmo di una mano entrambi hanno un quad core entrambi uno è dual sim l'altro è monosim ma la caratteristica dello zuc z1 è che ha chanogen mod 12.16 43 mentre l'iphone ha ben iphone blue ios 8 i8 7 non si sa niente a parte le dimensioni vediamo che l'iphone nella colorazione odo oro mentre lo zuc z1 nella colorazione verde se vi avvicinate per la prima volta al mondo del android vedete che lo zuc z1 ha esattamente la la forma adatta per per introdurvi al mondo android mentre se siete già dei dei apple fanboy avete già la forma bella allargata per essere dei fan della apple spero che questa recensione e questa competizione tra lo zuc z1 apple iphone 6 plus 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 vi sia piaciuta votate condividete ciao